Oggi c'è sempre più importanza di Time to Market, come Advantek aiuta le aziende in questo discorso? Il Time to Market è sicuramente una cosa molto importante ed è quello che caratterizza l'aspetto fondamentale dell'industria 4.0 Advantek ritiene che il Time to Market sia molto importante ed è per questo che oggi stiamo presentando le Solution Ready Platform, cosiddette SRP che permettono di avere sia l'hardware Advantek che il leader industriale, sia le soluzioni software già combinate di conseguenza il System Integrator riceve un pacchetto pronto e deve solamente sviluppare quelle applicazioni che già faceva prima riducendo il tempo di valutazione, questo significa Time to Market ridotto o maggiore tempo per lo sviluppo di applicazioni dedicate Mi puoi dire quali sono i vantaggi delle tecnologie wireless? Sicuramente oggi durante tutte le presentazioni che stiamo avendo e guardando abbiamo visto che il tempo di vita di un macchinario è sicuramente differente da una piattaforma industriale PC based, stiamo parlando di all'incirca 20 anni quindi ovviamente esistono sul mercato molte soluzioni che hanno almeno 10 anni di vita quindi le tecnologie wireless non esistevano e procedere con nuove installazioni è sicuramente difficile il wiring di un sistema è un qualcosa di molto costoso e molto complesso sicuramente le tecnologie wireless sono importanti Advantek ritiene che le tecnologie wireless saranno nel futuro sia quando parliamo di Wi-Fi quindi standard 802.11 con le differenti revisioni sia con standard innovativi quindi LoRa, ZigBee, Sigfox e Narrow Bandwidth Advantek ha sviluppato una tecnologia chiamata IDOR che permette di avere la completa flessibilità di aggiungere al proprio sistema la tecnologia wireless dedicata di conseguenza abbiamo il vantaggio prima di tutto di essere flessibili a seconda delle installazioni aggiungere quello di cui abbiamo bisogno secondo disponibili a innovazioni sul campo vediamo che questi standard di comunicazione specialmente molto più sicuri e resistenti quindi adatti all'impiego industriale stanno sbocciando nel mercato di conseguenza avendo un IDOR abbiamo la flessibilità di implementare queste nuove tecnologie su sistemi già esistenti e questo è un vantaggio per il cliente finale ma voi proponete anche le soluzioni HMI vero? Advantek da sempre propone soluzioni HMI quindi User Machine Interface è anche vero che la Industria 4.0 e lo Smart Manufacturing comportano di avere una cosiddetta advanced HMI quindi un HMI che diventa il centro dove l'operatore può interagire con il sistema Advantek è sicuramente un leader siamo qui in questa location per presentare la nuova piattaforma basata su un sistema modulare quindi ultima rivoluzione dal punto di vista di CPU Intel e non solo anche modularità nel fatto di scegliere la CPU necessaria e la dimensione dei pannelli di conseguenza si unisce a tutto il concetto di modularità e di IDOR quindi comunicazione wireless di cui parlavamo precedentemente quindi lasciatemi dire che l'HMI per Advantek è una parte fondamentale dell'automazione e che viene portata avanti sempre e comunque C'è anche grande importanza delle tecnologie ICT però questa importanza può portare anche dei rischi di cyber security ci puoi parlare un po' di questo? Allora, una grande parola nell'industria 4.0 è sicuramente IoT quindi la connessione di tutti i macchinari tutto è sicuramente connesso e questo porta ai vantaggi ovviamente porta anche delle problematiche come la sicurezza questa sicurezza deve essere affrontata in maniera basilare quindi Advantek sta implementando da sempre due tipi di soluzioni una soluzione dal punto di vista software che noi chiamiamo WisePass non è nient'altro che una tecnologia basata sul white listing e permette al dispositivo che è in campo di eseguire solamente quello che il system integrator in fase di installazione ha deciso possa essere consentito da un punto di vista secondario esiste anche la tecnologia TPM che è una nuova tecnologia che si sta facendo sul mercato è una tecnologia pienamente utilizzata nei sistemi ICT quindi nell'enterprise che però prenderà sempre più piena con la nuova revisione della 2.0 nel mercato industriale Advantek con le nuove piattaforme è già disponibile e pronta a questo tipo di soluzione quindi ad avere un encryption a livello hardware delle proprie soluzioni